La donazione degli organi penso che sia una delle condizioni per cui ci si deve impegnare un po' tutto, proprio per accrescere la cultura della donazione. Nella nostra regione ancora abbiamo un tasso di opposizione molto alto, quindi dobbiamo far capire che gli organi si prelevano alle persone morte e che tante persone possono vedere salvata la loro vita proprio grazie a questo grande atto di generosità. L'iniziativa di oggi, tra l'altro voluta dall'Aido, che noi abbiamo assolutamente accettato di volerla portare all'interno del nostro Ateneo, è un'iniziativa che sicuramente avrà un riscontro della possibilità di poter parlare con i ragazzi, parlare con gli studenti di medicina e avere la possibilità di trasmettere loro questo messaggio così importante.